Senti, mi dovresti aiutare a fare una cosa, perché l'altro giorno mi disse di portare un animalino più piccolo che si conosce, a scuola, e Giancarlo portò un animalino che non si vedeva, dice signora maestra ho portato un animalino che non si vedeva, dice cos'è fare la maestra? E Giancarlo fulbino, perché lui sta a Guadistallo, mi sembra di essere santi occhi, dice signora maestra questo è un piripollo, e dove sta? E' un animale microscopico che sta sulle palle del cane, e la maestra non lo sapeva prima di passare male, dice bravo Giancarlo, e lo sai cosa feci io? Dice signora maestra ce l'ho anch'io, perché a me Giancarlo mi sta un po' sulle scatole, dice fammelo vedere Claudino, mi chiama Claudino, ormai e io, dice ma non c'è niente, no? Signora maestra, qui c'è un animalino microscopichissimissimo e dice che animalino è? E qui c'è il piripillo, ma è parecchio parecchio più piccino del piripollo, perché sta sulle palle del piripollo, ho fatto bene, ci è rimasto male Giancarlo.